Sarà un ballottaggio fra il candidato di centrodestra, Roberto Cosentino, e quello di centrosinistra, Enzo Romeo, a decretare fra 15 giorni chi sarà il nuovo sindaco di Vibo Valencia. Un testa a testa che si è profilato sin da subito e che di fatto ha escluso il candidato di centro, Francesco Muzzopappa, che alla vigilia non nascondeva il suo compiacimento per come era andata la campagna elettorale e che all'interno della sua coalizione poteva cantare sulla lista che ha ottenuto più voti di tutte. Cuore Vibonese, una città libera, che ha raccolto il 10,71% delle preferenze. Solo di rappresentanza invece è la candidatura di Marcella Murabito, con rifondazione comunista, che non è andata oltre allo 0,81% dei consensi. Ma torniamo ai due candidati ancora in corsa. Roberto Cosentino, dirigente della regione Calabria, sostenuto da Forza Italia, che ha ottenuto il 9,59%, Forza Vibo, l'8,43%. La sua lista, oltre, con il 7,41%, Fratelli d'Italia, che ha ottenuto l'8,27%, Movimento Indipendenza, con il 2,79% e la lista civica, Vibo Unica, con il 5,41%. Si è fermato al 38,43%. Sull'altro fronte, Enzo Romeo, ex presidente della provincia, col 31,92% dei consensi, è sostenuto dal Partito Democratico, che ha ottenuto il 9,91% dei voti, dal Movimento 5 Stelle, col 4,80%, Liberamente Progressiste, Alleanza Verdi e Sinistra, che ha ottenuto il 3,45%, ed infine Centro Studi e Progetto Vibo, la sua lista, che ha ottenuto il 9,22%. Un bipolarismo che porterà proprio quella fetta di popolazione che al primo turno aveva scelto il centro a fare la differenza. Fra 15 giorni sapremo quale delle due proposte, di centro-destra o di centro-sinistra, avrà avuto più appeal sui votanti e quindi sarà riuscita a riportarli alle urne.